basco slama basco austriaco ex dotazione esercito austriaco anni 90 questo basco è usato possiamo notare i punti dove è stato affisso il fregio che potrebbero essere forati il la parte esterna è in cuoio in vera pelle a due laccetti dietro per tirarlo la parte superiore è 100 per cento lana e all'interno abbiamo una fodera 50 per cento cotone 50 per cento altre fibre questo è la parte di rinforzo per il fregio che serve per non dar fastidio alla spilla sulla testa ovviamente questi baschi sono stati lavati più volte questo è un 59 su una piccola testa non è che sia eccessivamente largo si consiglia sempre tagli un po più abbondanti comunque conservato bene morbido colore verde verde scuro